Grazie a tutti. Voglio dire subito una cosa che spero di mantenere, una promessa. Non parlerò molto. Cercherò di... quello che mi è stato detto del lavoro, il mio è stato prevalentemente un lavoro servile. Cioè ho fatto edizioni, ho scritto, però fondamentalmente un lavoro servile in senso positivo del termine, vorrei dire, cioè mettere a disposizione di coloro che poi la interpretano, testi, immagini e via discorrendo. Va bene, detto ciò, quando mi è stato proposto il tema, ho accettato con entusiasmo perché non ero mai... non avevo mai partecipato a questo festival. Però poi, dopo aver accettato, ho avuto un po' di angoscia perché è simbolo. Simbolo, come lo affronto? È tutto e nulla. È un proteo che si adatta a tutta una serie di ambiti e anche all'interno dello stesso ambito in maniera contraddittoria, a secondo degli autori, all'interno stesso degli autori. Quindi la prima scelta che ho fatto è stata quella di rifiutarmi di fare una storia del simbolo. Non solo perché non appartiene al mio modo di lavorare, ma perché fare una storia del simbolo sarebbe diventata di una noiosità, cioè come dire, lancinante. C'era Goethe, c'era Kreutzer, c'era Bachofen, c'era Winkelmann, c'erano tutti. Però tutti poi non è nulla, perché poi mi sarebbe mancato sempre qualcuno, poi la diacronia, che io non amo molto in queste cose, il racconto. Insomma, questa è una cosa da romanzi, non da quello che io concepisco come ricerca. Quindi escludo assolutamente di parlare della storia del simbolo. E ho scelto, dopo vari ripensamenti, di determinare la storia del simbolo e la riscoperta di un nuovo significato del simbolo all'interno di quella che io chiamo la crisi del linguaggio narrativo e descrittivo delle immagini tra la metà del XIX secolo e il XX secolo. C'è una crisi. Questa crisi non viene dall'ambito umanistico, viene dall'ambito scientifico, cioè dai fisici e dai matematici, quando capiscono che è vano pensare di riprodurre direttamente il reale. Questo è il problema fondamentale, è la cornice dentro cui si iscrive il significato nuovo che assume il simbolo. E si fa a largo invece l'idea che il simbolo, diciamo così, racchiuda valori empatici, esistenziali, se al carattere, all'idea di simbolo, noi, al carattere espressivo del simbolo, subentrasse l'idea che il simbolo è un mero segno. È un mero segno, non è un mero segno il simbolo. Ecco, questa è la grande, diciamo così, dimensione critica e neoseologica che io avverto in questa cosa. E il simbolo diventa un sapere precategoriale. Il simbolo è qualcosa che esiste prima che noi costruiamo delle categorie interpretative. Lo vedremo poi. È uno strumento allo stesso tempo della civilizzazione. Un fisico dell'Ottocento lo chiama Denkmittel der Civilization. Cioè uno strumento mentale della civilizzazione. Così, per esempio, non posso esimermi in questa breve premessa di dire che una delle figure principali tra Otto e Novecento che ha affrontato questo problema è Ernst Kassirer. È Kassirer, quello che, diciamo così, è più allavorato sistematicamente su questa cosa. Se voi prendete Kassirer, Kassirer non inizia mai dal soggetto. Perché prima del soggetto lui dice che l'uomo si esprime attraverso simboli e pregnanze simboliche. Lo spiegheremo meglio, spero. In qualche modo Kassirer cerca di ricostruire attorno alle forme simboliche la vicenda umana, il mondo storico. Questa è la frattura fondamentale in cui si abbandona la diacronia. Infatti, se voi prendete quella che in italiano è stata tradotta come storia della filosofia di Kassirer, il tedesco, ecco tutta altra cosa, si intitola Erkenntnis Problem, problemi della conoscenza, non storia della filosofia. Però il traduttore italiano per vendere ha fatto questa operazione. E questo carattere espressivo del simbolo Kassirer l'ha in qualche modo toccato attraverso, e poi vedremo anche Warburg, attraverso, diciamo così, le dimensioni fondamentali dell'agire umano. Cioè il cinetismo, l'uomo è un essere cinetico, è un essere che deve conquistare, costruire uno spazio per poter sopravvivere, non è l'animale che è dotato già di un apparato, è qualcosa, deve costruire un'artificialità per poter vivere, che si chiama società. Ecco. E il muoversi, quindi, il gesto, gesto non inteso come pura espressione formale del saluto o di qualcos'altro, ma qualcosa di più complesso. E questo ha portato Kassirer a considerare che la forma simbolica è un'energia espressiva, cioè è una caratteristica fondamentale dell'essere umano. L'essere umano, quando parla, quando agisce, si esprime. Cioè, come dire, dà un significato oggettivo a quello che intende o che prova nella sua vita. Ma le forme simboliche, diciamo così, hanno anche un significato, aggiungo io, antropologico. Perché le forme simboliche sono oggettivazioni dell'espressione umana, cioè il mito, il linguaggio, l'arte, sono tutte forme simboliche. Sono tutte espressioni cariche di significato, attraverso le quali la società umana, chiamiamola così, è progredita, comunque si è evoluta, e grazie alle quali, diciamo così, il mondo umano è diventato qualcosa di diverso dall'idea che l'uomo scopre la realtà oggettiva. Le forme simboliche sono qualcosa che permettono di oggettivare una realtà che noi non conosciamo, non conosceremo. Pensate agli sviluppi della fisica. Pensate a Heisenberg. Pensate alla portata di questa scoperta. E che l'arte, anche l'arte, sia una forma simbolica, Cassire l'aveva maturata a contatto, ad Hamburgo, con quella che è la mitica Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg. Non a caso, nel primo numero della rivista che sarà stampata in Inghilterra dopo la notte o trasferimento, per ragioni politiche, della biblioteca a Londra, si legge nell'editoriale. Tutta la dimensione, diciamo così, della cultura muove da questo presupposto. non muove da confedetto di tutto, va bene, insomma, lasciamo stare. C'è però un punto che vorrei sottolineare in tutto questo, è che è quello che io ritengo il limite della ricerca cassire-eriana, l'illuminismo cassire-eriano. Io penso che al fondo di ogni simbolo permanga comunque un nucleo oscuro che non cede mai ad un'analisi razionale. anche se attorno a questo simbolo si raggruppano forme simboliche che traggono la loro forza e intensità in quanto espressioni fondamentali dell'esistenza umana. Religione, mito, linguaggio, arte, quello che volete. Ciò premesso è data questa cornice della crisi epistemica, direi quasi epocale, che corre da metà dell'Ottocento e che si prolunga fino ad oggi, fino alla nostra cultura. Non è chiusa questa crisi, non si chiuderà mai. Parto da un'affermazione che durante il mio lavoro di edizione dell'edizione tedesca di Jacob Burkert ho ritrovato in un suo manoscritto del 49. Scrive Burkert I più alti risultati della storia dell'arte sono espressi solo attraverso formulazioni relative. Non possiamo mai propriamente descrivere la vita interna di uno stile e di un'opera d'arte, bensì solo circoscriverla. Al carattere dell'opera d'arte si sostituisce infatti sempre un'immagine, alla denominazione un simbolo. Dunque, dobbiamo essere consapevoli della povertà e dei limiti del linguaggio, scritto e verbale. Cioè, noi non possiamo, siamo inadeguati, diciamo, a cogliere quello che riteniamo possa essere la descrizione verbale o scritta di un'opera d'arte. C'è un problema di fondo. E questo rimanda al simbolo. la consapevolezza di questa inadeguatezza del linguaggio verbale e scritto, della narrazione come metodo per spiegare le opere d'arte, in realtà dischiude un orizzonte entro il quale si collocheranno tra otto e novecento con risposte diverse, Wölflin, Warburg, Riegl, Panoschi, Kassirer, Wind, Schmarzov, Goldschmidt. Tutte queste persone affronteranno questo problema prospettando soluzioni diverse, formaliste, antropologiche, stilistiche, cioè quello che volete. Però è questo il problema. Il problema fondamentale è questo. Tutta la cultura del novecento fa e deve fare i conti con questa questione della crisi del linguaggio e della crisi della narrazione e della descrizione. Per comprendere questa cosa io parto parto da un testo della seconda metà dell'Ottocento che è fondamentale in questa funzione diciamo così nuova del simbolo. È un saggio di Friedrich Theodor Fischer pubblicato nell'87 e intitolato appunto Das Symbol. Questo saggio fu e sarà annotato molto da Warburg. Purtroppo non vi posso mostrare queste annotazioni perché l'Istituto Warburg è molto geloso nella riproduzione di questi testi annotati da Warburg. però io li ho visti. Fischer dipende distingue tre funzioni del simbolo. Una oscura e non libera che chiama dunkel un frei. cioè quindi oscura e non libera il simbolo è qualcosa. Una seconda funzione del simbolo che come strumento ripristina il carattere oggettivo delle immagini e degli oggetti cioè stabilisce una distanza oggettivizza l'oggetto che sta trattando crea una distanza tra il soggetto e l'oggetto l'immagine e una terza funzione che è molto importante che concepisce il simbolo come connessione di immagine e significato. Quindi il simbolo è qualcosa che si mostra ma al cui interno racchiude un significato un senso. Questo è non è un mero diagramma un mero segno quello che volete insomma. Questo terzo significato in Fischer assume una valore per la sua teoria estetica ma e qui lo introduco per prima volta l'autore Warburg che legge questo questo testo lo interpreta come punto di partenza di una ricerca storico-culturale che si basa sull'espressione umana. Questa è la svolta. Da qui l'idea che la cultura sia qualcosa di non purificato che emerge nelle dinamiche umane ma la cultura è un risultato sempre di un equilibrio che scaturisce da ambiti opposti. Lo vedremo poi nell'indiano Hopi che si mette in bocca il serpente. Cioè anche il rinascimento a cui ha dedicato molte scelte non è mai un rinascimento puro è qualcosa che sta tra medioevo e rinascimento. È una forma di equilibrio che si perché questo fa capire perché il rinascimento ingloba elementi diciamo dell'antichità del medioevo cioè non è un modello ideale come sarà in Wölflin perché parte da punti di vista stilistici formalisti non è un tipo che è possibile costruire astrattamente è qualcosa di storicamente determinato con tutte le variabili possibili. E quali sono i due punti che si equilibriano? La logica umana che crea lo spazio per il pensiero cioè la logica umana è qualcosa che oggettivando l'immagine crea una distanza e quindi la possibilità dell'uomo di pensare di analizzare cioè è la distanza perché senza distanza che cosa abbiamo? abbiamo la magia ma abbiamo anche la religione perché la religione e la magia come l'astrologia d'altra parte distruggono lo spazio del pensiero umano e stabiliscono una connessione ravvicinata e superstiziosa quindi oscura e non libera adesso vedremo non è un caso che il soffitto originario della biblioteca Warburg sia illittico l'isse è qualcosa che è la costruzione è l'equilibrio di opposti non è mai è un equilibrio instabile non è mai è di volta in volta raggiunto e negato dopo è ricostruito questo primo significato del simbolo come oscuro e non libero abbiamo detto è tipico della coscienza religiosa in cui immagine e significato diventano un'unica cosa questo signore che fa un po' spavento che cosa fa Warburg nei suoi appunti Warburg non ha mai visto la danza del serpente intanto quello che leggete la danza del serpente il rituale del serpente è un titolo inventato Warburg nei suoi due manoscritti è sempre intitolato appunti sull'esperienza personale attraverso nei popoli indiani Hupi lui aveva viaggiato però non aveva mai visto il rituale del serpente aveva raccolto le foto di questa esperienza ma non l'aveva mai vista perché è importante questo primo significato del simbolo perché come sapete gli indiani Hupi vivono in un territorio deserto dove l'acqua è fondamentale alla loro sopravvivenza e alla crescita di ciò di cui si nutrono e che cosa succede quando arriva il temporale succede che il temporale è preceduto seguito dai fulmini quindi da una linea fatta così ecco cos'è il serpente il serpente è il movimento che l'animale fa che il rettile fa quando si muove allora cosa cosa succede l'indiano non sa come arriva il temporale in base a quale non avevano le previsioni meteorologiche anche se sono poi sbagliate quelle di oggi l'indiano cerca di diventare la causa del temporale cioè di inglobare il segno del temporale il simbolo del temporale e distrugge l'idea della causalità perché se lo mette in bocca si sostituisce lui mettendoselo in bocca a quello che evoca come l'evento fondamentale della sua vita e della vita loro dico per inciso questa idea è quella stessa che sta alla base della transustanzazione non è che sia una grande scoperta cioè ingerire l'ostia come simbolo del corpo del Cristo è lo stesso processo simile a questa cosa e un esempio di questa è questo disegno che Warburg affida un indiano si chiama Cleo Iurino e gli dice ma insomma ma il temporale come lo disegnate e guardate come lo disegnano come lo disegna in basso c'è la casa del mondo il mondo l'universo il temporale è un serpente il temporale è identificato con l'immagine del serpente quindi del fulmine e del e della quindi c'è uno scalo qui il simbolo diventa qualcosa capite che distrugge ogni oggettivazione della realtà dell'oggetto dell'immagine uno lo incorpora no? fa diventare diventa lui stesso la causa cerca di diventare lui stesso la causa di un fenomeno naturale poi quindi possiamo dire che il primo significato del simbolo è quest'idea di corpora corporizzazione è un atto di una logica del pensiero primitivo perché il pensiero primitivo non è che non abbia logica ha questo tipo di logica è questa la logica che presiede il pensiero primitivo ed è quella logica che presiede appunto il rapporto tra un uomo e un essere estraneo animale fenomeno naturale immagine eccetera eccetera nella pratica artistica quindi religiosa dei popoli primitivi che si chiamano cosiddetti primitivi si assiste all'incorporazione dell'oggetto o del fenomeno lo si incorpora per diventare noi stessi la causa di qualcosa non è un caso che Warburg avesse letto la nascita della tragedia di Nietzsche e nella nascita della tragedia di Nietzsche avesse sottolineato un prefisso ur 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 che in tedesco rimanda a una o originarietà primaria primaria ur gesciste che cos'è è la cultura lontana diciamo così la più lontana possibile ur perché questo perché questa dimensione che apre anche un fattore antropologico no perché ur vuol dire che noi conserviamo le tracce di qualcosa che è successo in un passato lontano che noi non conosciamo ma che come vedremo poi è possibile capire comprendere quindi alla cultura ottocentesca tipica della quella che Warburg chiama frantumazione filologica del tempo storico operata dal positivismo al pluralismo empirico della scienza moderna ma anche alla medica storia della cultura e alla mera diacronia come sistema che racconta la storia dell'arte che racconta l'arte l'evoluzione dell'arte Warburg contrappone qualcosa che ha una valenza antropologica originaria e la funzione nuova del simbolo questa è la svolta è una pagina degli appunti che naturalmente con le osservazioni di Warburg che lui aveva elaborato durante il suo viaggio a fine ottocento per il matrimonio del fratello negli Stati Uniti poi si era come dice scocciato della della cultura new yorkese era andato con il calesse il cavallo a cercare nel New Messico questi indiani opi cioè c'è tutto un repertorio fotografico interessantissimo per capire come si viaggiava allora cioè come si andava in mezzo a queste cose ma riprendiamo Fischer la seconda interpretazione del simbolo questa seconda interpretazione funzione del simbolo ripristina il carattere oggettivo dell'oggetto dell'animale il serpente perché non congiunge alla ritualità un'esperienza religiosa magica l'oggetto è oggettivato cioè si perde la potenza magica del simbolo e quindi del reto e sumentra invece l'elemento riflessivo la distanza il pensiero analitico Marburg sapete di fronte alle immagini a un certo punto tira fuori un'espressione tu vivi e non mi fai male cioè tu vivi immagini ma nello stesso tempo non mi distruggi non entri dentro di me non distruggi la mia capacità di prendere una distanza come elemento fondamentale di riflessione e di pensiero la terza funzione del simbolo è quando lo spettatore non crede alla magia dell'immagine e tuttavia si sente legato ad essa c'è un'empatia quando guardate un quadro cioè vi suscita qualcosa c'è qualche elemento empatico che subentra in questa riflessione magari la bruttezza magari non so qualsiasi però avete una reazione no e agli estremi di questa terza funzione del simbolo c'è che qui non si allenta questa empatia grazie come nel secondo significato alla presenza dell'elemento analitico oppure si codifica in un segno astratto perché il segno il simbolo in quanto segno è una formalizzazione puramente diciamo così enigmatica di una la scrittura anche no è questo no questo tu formalizzi attraverso dei segni l'elemento e invece non si scolorisce in questo aspetto formale diciamo così grafico ma il simbolo diventa anche portatore di un'energia espressiva in quest'ultima eccezione l'immagine artistica trova la sua coniugazione e collocazione e si coniuga con il simbolo cioè l'immagine artistica è qualcosa che pur oggettivando l'immagine mantiene comunque un rapporto empatico tra lo spettatore tra l'uomo e quello che è l'oggetto che viene guardato cioè c'è una trasmissione emotiva espressiva in qualche modo eccetera questa cosa ma cerchiamo un momento prima di avviarci a una serie di conclusioni questa è una cosa tipica di Barber Barber scriveva in questo modo cioè non è che scrivesse romani cioè qui si vuole una dimensione quasi immaginativa per ricostruire che cosa voleva dire c'è un manoscritto molto importante che è datato fine ottocento inizi novecento di Barber si chiama Simbolismus Aufgefasst Als Primere Umfangs Bestimmung simbolismo concepito come determinazione primaria dell'estensione titolo complicato questo è qui il simbolo è definito come trigger cioè come portatore di un significato e di un'immagine quindi vedete nel simbolo c'è l'immagine ma c'è anche il significato e questa è diciamo così la questo manoscritto è un convoluto di cose che non vi sto a far vedere tutto così qui ci vuole a volte ci vuole anche un po' di fantasia è un convoluto di frammenti però c'è un elemento fondamentale in questo manoscritto oltre alla definizione del simbolo è che lui dice che il simbolo è qualcosa è una necessità biologica quindi non è un segno è una necessità biologica cioè è una forma antropologica attraverso cui l'uomo si esprime e perché dice questo perché nel frattempo ha letto un testo ha letto Darwin ha letto l'espressione dell'uomo l'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali che che connessione c'è tra Darwin e l'immagine eccetera c'è una connessione perché perché Warburg aveva appreso da Darwin che il rapporto tra impressione sensibile ed espressione corporea no si era codificato in un linguaggio in un linguaggio figurativo vabbè questi sono tutte cose dove è finito no questo è lo zio Sam allora questo è Masaccio la cappella Brancacci com'è che le figure di fronte alla resurrezione di Tabita si esprimono fisicamente vedete il signore come esprime la sua stupore alzando le sopracciglia il signore qua come quasi con un'espressione di microfono forse forse devi prendere il microfono c'è questo fa non capisco niente è acceso è acceso vabbè scusatemi questo distrugge ogni elemento di analisi stilistica sociale perché Masaccio aveva costruito questo su cosa si sofferma sul fatto che le emozioni sono codificate in espressioni il rialzamento delle sopracciglia la bocca aperta in fondo anche voi quando avete paura che cosa fate? allora questo elemento fondamentale che straordinariamente coniuga un testo darwiniano con un'immagine è qualcosa che potenzialmente diciamo così è molto importante perché i gesti nostri gesti sono delle emozioni delle espressioni sono il residuo cristallizzato di una gestualità che un tempo era legata a delle emozioni cioè sono quello che è rimasto delle emozioni originarie quando l'uomo scopriva il fuoco o scopriva la morte si sono codificate in gesti espressivi del corpo questo è il problema della storia dell'arte questo è il problema della connessione tra immagine antropologia espressività espressività certamente questi gesti oggi soprattutto gli storici dell'arte che mi scuso se sono presenti li studiano solo dal punto di vista formale ma non nel solo sottofondo antropologico per cui costruiscono catene di immagini come l'album delle figurine panini dove c'è il gesto così poi c'è un altro quadro con il gesto così e costruiscono un catalogo che però non serve a niente perché è soltanto una dimensione formale di come dei gesti per esempio non so la deposizione di Michelangelo vabbè chi chiara deriva da un sarcofago con la morte di Meleagro che il braccio lo tiene fuori della cosa che si ripete ma è soddisfacente questo per capire le immagini è sufficiente costruire queste catene io credo di no perché penso che tutto il valore espressivo antropologico si perda in questo modo a scapito di una serie di topoi si fa la storia dei topoi questo è quello che ha fatto Saxo per esempio ha interpretato così perché veniva dal suo maestro Wölflin prima di Warburg ma è quello che ha fatto anche in un bellissimo libro Ernst Robert Curzius che è un libro dedicato a Warburg quella letteratura europea e medioevo latino dove lui ha codificato dei topoi cioè identificato e su quello ha fatto la storia delle ripetizioni di queste cose questo non è Warburg questo non è Warburg quello che ha scritto Warburg purtroppo Curzius non conosceva il Naclas tutto quello che volete però questo non è Warburg cioè la costruzione formale di una catena di luoghi e di immagini allora che cosa sono questi affreschi della cappella Brancacci Warburg le interpreta come una sorta di grammatica che testimonia quella che un tempo era stato il legame tra impressione ed emozione è una grammatica che è rimasta tra gesto e movimento corporeo cosa possediamo noi per capire come l'uomo può aver reagito di fronte a questo abbiamo le immagini perché non abbiamo nella scrittura nella poesia abbiamo le immagini e le immagini che testimoniano che cosa originariamente l'espressione di fronte ad un fenomeno l'uomo aveva dal punto di vista corporeo degli occhi dello sguardo reagito via via la conclusione Warburg come abbiamo detto interpreta gli affreschi di Masaccio ma potremmo applicarla a tante altre cose al testo sull'espressione delle emozioni di Darwin questo aspetto è ciò che distingue la riflessione di Warburg dall'idea che l'opera d'arte debba essere fruita e interpretata in forma meramente estetica cioè questo è cioè è è bello è mi piace eccetera eccetera c'è qualcosa di più dentro dentro l'immagine c'è qualcosa di profondo quindi questo sbarazza tutta l'estetica dell'ottocento in questo modo e anche di quella successiva che è categoriale le categorie del bello della e cosa dice a proposito dei popoli primitivi la loro spiegazione del mondo non è poi così lontana dal darwinismo dice questo è pazzo dice no mentre noi vediamo una legge di natura in quello che è un processo evolutivo e autonomo cioè una distanza legge di natura individuiamo degli elementi che si ripetono i pagani ricorrono annessi magici e arbitrari con il regno animale mentre noi vediamo invece dopo la legge quindi l'evoluzione darwiniana comporta e ha comportato un distacco delle azioni dal loro impulso immediato cioè originariamente l'evoluzione ha staccato questi due termini cioè quello che prima era un binomio indistricabile espressione emozione espressione ha finito per separarsi perché l'evoluzione umana ha da una parte diciamo così ridotto a immagine a stupore l'immagine e lo stupore dall'altra quello che vediamo però non sappiamo che era all'origine qualcosa che era simbiotico con l'emozione umana è rimasto solo questo cioè l'evoluzione ha staccato questo quindi i nostri gesti non sono altro che il residuo simbolico di ciò che era stato biologicamente utile in un lontano passato noi portiamo nel nostro organismo scrive Warburg i resti e le stracce di stadi evolutivi anteriori come essi si sono realizzati in epoca arcaica e qui mi permette anche questo di fare una delicata polemica la maggioranza degli interpreti di Warburg ha confuso altertum con antiche sono due termini completamente diversi altertum antichità rimanda a una dimensione storica l'antichità romana l'antichità greca antiche è un concetto antiche è ciò che come dire è arcaico ha un fondamento antropologico non storico culturale allora se noi confondiamo altertum con antiche possiamo scrivere e leggere fiumi di parole sul fatto che l'antico inva l'antichità inva Warburg e questa non è vero un piffero scusatemi ma la filologia qui entra come elemento fondamentale di comprensione cioè bisogna capire che cosa significa altertum è una cosa altertum Wissenschaft nell'ottocento è lo studio di che cosa della cultura greca della cultura romana della filologia antiche è qualcosa che somiglia al nicciano Ur a qualcosa che ha un fondamento che prescinde dallo spazio e dal tempo è qualcosa di potrei dire originario e questo e mi avvia veramente a concludere scusatemi ho durato molto più di quanto non pensassi come succede sempre se voi vedete e guardate i manoscritti delle conferenze di Warburg cosa avete davanti avete davanti il titolo quattro righe tre quattro righe scritte poi l'espressione a matita dunkel buio e cosa avete dopo avete una sequenza di immagini e poi alla fine della sequenza di immagini licht si riaccendono le luci tre conclusioni naturalmente gli storici dell'arte dicono ma qui non c'è il testo no il testo c'è il testo è dato dalla associazione logica associativa delle immagini che vengono proiettate non è una logica causale è una logica associativa che è qualcosa di diverso dalla logica aristotelica è quello che gli psicanalisti vi dicono come Dava Recalcati dimmi cosa pensi dimmi cosa e lui gli dice casa uomo poi la logica la ricostruisci alla fine perché hai detto certe cose ma l'elemento associativo è quello determinante non è mai causale causale il senso strano il simbolo dunque è qualcosa che rappresenta e che precede ciò che viene differenziato attraverso il segno la scrittura il simbolo precede questa la scrittura la scrittura formalizza in un segno il simbolo è qualcosa che è precategoriale e la storia delle culture da cosa è data non dalla diacronia prima c'è quello poi c'è quell'altro poi come o nella storia dell'arte prima c'è Masaccio poi c'è Pinco Pallino poi si scopre che il novecento è ritornato indietro eccetera no è data dalla capacità che le culture hanno di creare simboli più i simboli sono complessi simboli tesi come linguaggio arte mito eccetera eccetera più le culture sono complesse quindi il grado diciamo così di valore delle culture è dato dalla loro capacità di simbolizzazione scusate questo termine è un po' diciamo così strano perché questo perché la simbologia è qualcosa il simbolo è qualcosa che si colloca tra l'antropomorfismo e il linguaggio matematico tra la religione e la scienza prendete l'astrologia che cos'è c'è una serie di dati ma c'è anche l'elemento matematico dentro cioè astrologia astronomia a un certo punto si confondono e poi l'astronomia che si separa dall'astrologia che diventa superstizione ma all'inizio per secoli astrologia e astronomia erano un unicum era una combinazione di elementi feticistici mitici con elementi matematici che si osservavano nel cielo e questo è diciamo così il carattere del simbolo chiudo no 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 aspettate quanto parlate ecco quello che non volevo fare vabbè allora faccio velocemente salto tutto salto tutto a questa faccenda del linguaggio vado a non succede più nulla dico due cose soltanto qui abbiamo un'immagine tutti si sono accalorati su questa figura la linfa l'elemento antico che è vero rispetto alle palandrage strane degli altri personaggi in cui il corpo non si vede nella linfa si vedono due cose il corpo e il movimento ma il movimento non è solo quello che viene indicato dalle linee del corpo della linfa è anche un movimento potenziale perché noi sappiamo che la linfa sta andando così quindi è una dimensione è una tridimensionalità dell'immagine vedete come si riesce a volte sembra una roba stilistica la linfa si muove questi altri stanno tutti fermi sono tutti coperti questo è un elemento cinetico che serve a capire il simbolo l'ultima immagine cos'è questo beh è una foto che Warburg aveva scattato durante il suo viaggio in America chi è quest'uomo? è il simbolo dello zio Sam dell'americano allora cosa è successo? è successo questo che attraverso questa immagine Warburg ha cercato di catturare il simbolo della modernità questa è la modernità di colui che aveva vinto il culto del serpente e il timore del fulmine lo zio Sam cammina orgogliosamente ma cosa ha alle spalle? i fili dell'elettricità che cosa sono? il moderno serpente di rame trasformato il serpente si è trasformato in rame si è trasformato non più in un animale che eccita la paura perché la modernità l'ha ucciso in qualche modo e comunque non lo venera più lo stermina lo ha sterminato il fulmine adesso è imprigionato nel filo e l'elettricità la modernità che cosa ha fatto? ha prodotto una civiltà che si è sbarazzata del paganismo di ciò che era è qualcosa che ha è un nuovo significato del simbolo che avanza quindi le potenze della natura non sono più viste nella loro estensione antropomorfa e biomorfa bensì come onde infinite che soggiacciono alla pressione della mano cosa succede quando voi accendete la luce? in fondo usate la mano e pigiate cos'è? capite da dove viene la luce? no tutti in essi sono distrutti è soltanto il gesto che voi vi permette di ciò che nel passato era un elemento quasi magico il sole la luce attraverso queste onde questi lunghi nervi di rame che serpeggiano in guaine infilate nel cemento sotto terra e sui pali la civiltà dell'epoca delle macchine della nostra si è sbarazzata di ciò che la scienza naturale derivava dal mito e che aveva faticosamente conquistato diceva Arbor lo spazio per il raccoglimento poi trasformato in spazio del pensiero l'ha eliminato questa è la conclusione forse pessimista che però ci dovrebbe far riflettere grazie 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 grazie